Il Polo Espositivo di San Grato a Lodi ha fatto da sfondo anche quest'anno all'Assemblea annuale di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza. Impresa Agricola 2.0 è stato lo slogan di fondo dell'intervento svolto dal Presidente Antonio Boselli, proteso a tratteggiare la fisionomia dell'azienda agricola nell'era dell'informazione. Prendendo spunto dalla nuova politica agricola comunitaria entrata in vigore quest'anno, Boselli ha ribadito che non vogliamo un'agricoltura tutelata ma un'agricoltura valorizzata. Ci sono infatti due sfide da vincere come ha sottolineato Paolo Covo della Commissione Agricoltura della Camera, l'aumento della popolazione mondiale ed il miglioramento delle condizioni di vita di milioni di persone. L'Europa non può che rispondere con un aumento della produzione dei beni primari e con un netto miglioramento della loro qualità. È un duplice sforzo che richiede istituzioni europee all'altezza del compito, ha sottolineato il Presidente Boselli. L'Assemblea si è chiusa poi con l'intervento del Presidente Nazionale di Confagricoltura, Mario Guidi.